La sua esperienza le consente di confrontare almeno due culture, due mercati, due mentalità imprenditoriali, quella italiana e quella inglese. Potrebbe dirci quali sono brevemente il suo modo di vedere i tratti salienti dell'una e dell'altra e che cosa l'Italia deve imparare e che cosa potrebbe insegnare? Direi che la cultura inglese, la cultura anglosassone è molto forte nella governance, nella pianificazione, nel controllo. C'è un po' anche il retaggio dell'impero e del tenere sotto controllo parti remote, il che ovviamente porta a una grande capacità di gestire complessità e internazionalità. La cultura italiana invece, di nuovo come retaggio storico, delle botteghe, dell'artigianalità che sono parte del nostro passato, tende ad essere invece più reattiva, più veloce, un po' meno organizzata. Siamo più forti come italiani in situazioni ambigue, eccetera. E naturalmente nel mondo moderno ci vogliono entrambe, perché se vuoi crescere devi per forza pianificare e governare, ma il mondo cambia in fretta e quindi bisogna anche saper reagire molto bene. Credo che sia il motivo per cui i manager italiani tipicamente lavorano bene internazionalmente, perché riescono a mettere assieme le due culture. Diciamo nel suo processo così di formazione, di crescita, insomma lei ha raggiunto i livelli più alti di managerialità. Ci sono stati dei manager o degli imprenditori che per lei hanno svolto un po' la funzione di esempio, di paradigma, anche parzialmente ai quali lei si è ispirato? Qua a costo di deludere gli studenti che ci ascoltano, la risposta è no. E no perché io non ritengo che ci sia nessuno che veramente è perfetto, non esiste il modello, bisogna sapere prendere da ogni persona il meglio. Io ho avuto la fortuna di conoscere Steve Jobs, Jeff Bezos, Tim Cook adesso, e poi tanti manager europei, tanti imprenditori italiani della moda, imprenditori di tutti i settori e devo dire, io lo dico sempre agli studenti, lo dico anche ai dirigenti, soprattutto a quelli giovani, non cercate il modello degli altri, guardate gli altri, imparate, ma in ogni persona c'è qualche cosa di molto positivo, anche in noi stessi. Saper individuare, saper fare leva su quel lato positivo è il vero segreto e l'adorazione del manager, io credo che il manager non è un artista, è una persona brava che lavora bene. Individuare in che cosa e trovare dentro di noi quella cosa che ci permetterà di essere successo è più importante che non adorare delle figure. Dall'inizio degli anni 90 in Italia è cambiata la legislazione bancaria. In realtà forse il ruolo delle banche in Italia non è cambiato così radicalmente come è cambiata la legislazione. Qual è il suo giudizio sul ruolo svolto dalle banche nei confronti delle imprese in Italia negli ultimi 10-15 anni? Allora io non sono un esperto di banche e di finanza bancaria, ho avuto più competenze nella finanza di mercato. Io non sono così critico come molti verso le banche italiane. Allora noi dobbiamo ricordarci una cosa, che alla fine i banchieri fanno credito a situazioni che hanno delle buone prospettive e una decente solidità. È chiaro che quando le imprese italiane sono tendenzialmente sottocapitalizzate, quando tendenzialmente le imprese italiane tendono a mantenere dimensioni piccole e a non volere considerare maniere per crescere e far crescere anche la loro base di capitale, in un momento in cui la tecnologia sta cambiando completamente, in un momento in cui tutti devono ammodernarsi, insomma la banca fa fatica a trovare situazioni in cui non è rischioso prestare denaro. E stiamo vedendo adesso con i non performing loans dove siamo finiti. Quindi io se devo fare una critica, forse le banche italiane si sono ammodernate poco dal punto di vista delle competenze internamente, perché c'è la rigidità del lavoro, eccetera. Però penso che il settore industriale italiano si debba porre delle domande se tenere le aziende piccole, tenerle sottocapitalizzate, mantenere il controllo familiare, alla fine non sono elementi che precludono il credito e quindi poi precludono la crescita. E devo dire che vivendo appunto nel mondo anglosassone dove invece questi elementi non ci sono, tenderei a propendere per il fatto che anche le prese industriali italiane devono mettersi un po' la mano sul cuore e domandarsi se non deve cambiare qualcosa. Anche un recente studio di Banca d'Italia sottolinea il fatto che uno dei fattori che certamente hanno rallentato la crescita italiana negli ultimi anni è l'incapacità della politica di attuare tutta una serie di riforme strutturali. In Italia è abbastanza tratto nella logica comune che ci siano altre istituzioni che in un certo senso suppliscono alla politica. Una di queste supplenze più marcate alla politica è stata appunto la magistratura. Secondo lei la magistratura può svolgere un ruolo positivo all'interno diciamo della correzione di dinamiche distorte di mercato? Questa è una domanda tutta italiana. Allora una domanda come quella che lei mi ha fatto sarebbe intraducibile in inglese. Ma intraducibile tecnicamente ma anche la gente non capirebbe di cosa stiamo parlando. Cioè la magistratura deve intervenire per riparare i problemi di mercato. Ma stiamo scherzando. Allora io penso che alla fine stiamo veramente confondendo un po' i ruoli. Il ruolo della magistratura è di mettere dentro la gente che viola la legge. E questo a prescindere dal fatto che ci sia o non ci sia un fallimento di mercato. Il ruolo dei regolatori della politica è di fare riforme e di creare le condizioni per cui se io sono un ciclista posso a un certo punto diventare un grande distributore di parti per biciclette. Se sono un barista posso crescere, avere un ristorante, avere altre cose. Se faccio hotel posso diventare la più grande catena al mondo. Non è quello di entrare a valutare come lo faccio, come lo faccio. Dovrò rispettare le leggi, ci sarà la magistratura, la finanza, quello che è, le varie leggi, le tasse, le regole, eccetera. Questa discussione di poteri supplenti è veramente molto italiana e devo dire anche un pochino, a mio vedere, un po' irrilevante. Perché poi dà l'alibi a chi dovrebbe intervenire per migliorare. Io penso che l'Italia sia un deficit alla fine di innovazione e di concorrenza. Bisogna creare più opportunità per i giovani e alla fine le opportunità per gli studenti che ci ascoltano arriveranno da innovazione, da crescita e da concorrenza, da nuove cose che nascono. Quello è il ruolo della politica e quello la politica deve farlo, credo, meglio di come lo sta facendo oggi in Italia. Qual è la sua opinione sulla crisi del 2008? Ritiene che nel fallimento di importanti istituti di credito, nell'atteso default perfino corso ad alcuni stati, nell'uso esagerato che è stato fatto di certi strumenti finanziari, tutti coloro che hanno contribuito alla crisi alla fine abbiano qualche misura pagato, che siano stati addettati poi anche, non solo in Italia ma anche in altre nazioni, correttivi sul piano normativo in maniera tale che la crisi non si ripeta o rischia che le stesse dinamiche ce le troveremo davanti anche in futuro? Allora qua, visto che si parla a studenti di economia, do due risposte. La prima è la risposta, chiamiamola, sistemica e la seconda è la risposta invece più psicologica, the behavioral economics. Allora, la risposta sistemica è che chiaramente ci sono stati degli eccessi e dobbiamo stare attenti perché gli eccessi sì, sono stati dalla parte delle banche che hanno finanziarizzato dei prodotti, dei prestiti o dei prodotti subordinati che non dovevano essere messi assieme, ma però c'è stata anche, diciamo, per esempio da parte degli utilizzatori, quanti comuni anche in Italia hanno utilizzato swap e altri prodotti finanziari semplicemente per far tornare i conti a breve e poi buttare il problema alle generazioni successive o alle giunte successive. E lo stesso vale per gli stati, quanti stati hanno fatto politiche di breve che hanno portato il loro bilancio a essere piuttosto dissestato, diciamo che ne abbiamo stati vicini a noi, ma forse potremmo anche parlare dell'Italia, e poi danno la colpa al mercato finanziario. Ricordiamoci sempre che se c'è qualcuno che finanziarizza debito c'è comunque sempre qualcuno che lo piglia, e quindi vuol dire che c'è una politica poco saggia dietro. Allora, sono stati messi dei vincoli, sicuramente ci sono stati messi dei fattori di mitigazione, io credo che l'Europa, che se ne dica, si è comportata molto bene, perché mi ricordo, io appunto ho iniziato a fare l'amministratore delegato nei giorni della crisi nel 2008, il Lehman Brothers, io non sapevo neanche quasi cos'era e mi sono trovato nel caos. Devo dire che mi ricordo quelli che dicevano l'Europa scompare, l'euro collassa, i paesi vanno tutti per la loro, invece abbiamo dimostrato ancora che con questo meccanismo di decisione tutti assieme, poco a poco, si è gestita la Grecia, si è gestita la crisi dell'Italia del 2011, si sono gestiti le ristrutturazioni, si sono fatte le operazioni di mercato per sostenere gli stati, quindi dobbiamo anche essere contenti di come strutturalmente questo meccanismo europeo, e quindi la parte macroeconomica, gestisce queste crisi. Poi però c'è la parte di behavioral economics, e qui dico agli studenti, ci sarà sempre la prossima crisi, e ci sarà sempre perché fondamentalmente l'uomo è avido ed è imprenditoriale, quindi le due cose messe assieme creeranno sempre delle zone di rischio, creeranno sempre dei tentativi o delle tentazioni di andare oltre. Lì è dove è importante che ci sia una reazione veloce e immediata, perché il mondo adesso è molto interconnesso, e se noi lasciamo che un rischio piccolo contenuto diventi poi sistemico, allora, quindi sì, io credo che i meccanismi sono stati messi in essere per gestire la crisi, ma questo non vuol dire che non ce ne sarà un'altra, ce ne sarà sempre un'altra, perché è nella natura umana di cercare sempre di andare al limite. Credo che lei sia una delle persone che ha maggiormente esperienza in questo campo, mi intendo, mi riferisco ai consumatori. Proviamo a trasformare Vittorio Colao in un consumatore. A partire, insomma, negli ultimi dieci anni, secondo lei, la condizione dei consumatori rispetto ai produttori è migliorata, nel senso che i rapporti tra fornitori di servizio, produttori di beni e consumatori, sono diventati più paritari sul piano dei diritti, sul piano, diciamo, anche normativo. Anche qua ci sono due risposte. Io penso che tutti noi, come individui, come cittadini, abbiamo molto più potere oggi di dieci anni fa, e alla fine è così perché ci sono i social network. Le aziende, come quella che io guidavo fino a sei mesi fa, le aziende sono sotto la pressione e l'attenzione costante di quello che succede a loro, perché chiunque attraverso un post di Facebook, di Twitter, un Instagram, può esporre in maniera geometrica quasi, che esplode in poche ore, qualche cosa che non va. E quindi devo dire, da questo punto di vista, il consumatore è molto più forte oggi. La cosa che tutti noi temivamo, abbiamo persone che guardano, e software che studia permanentemente il flusso di quello che si dice digitalmente sulle aziende, perché la crisi può esplodere in poche ore. E ci sono stati dei casi clamorosi in cui appunto una persona con un video, con un commento, ha creato poi dei grandi ripensamenti. Quindi in questo senso le aziende sono molto più attente e in questo senso i consumatori sono molto più potenti. D'altro canto però è anche vero che c'è un trend generale, spinto dalla tecnologia, di concentrazione. Quindi la concorrenza in molti settori non sta aumentando, ma si sta concentrando. Ecco, questo secondo me invece è l'aspetto che va presidiato. Dobbiamo continuare a difendere la concorrenza, ma non perché la concorrenza sia un valore religioso quasi, no, perché alla fine dobbiamo essere convinti che se c'è concorrenza ci saranno più imprese, se ci sono più imprese ci sarà più innovazione e più lavori e quindi alla fine ci sarà più opportunità per le nuove generazioni. Sennò il rischio è che si consolidino le aziende, si riducano i lavori, si riduca l'innovazione e alla fine la prossima generazione, quella successiva, staranno meno bene. Quindi la voce dei consumatori è più forte oggi, ma bisogna garantire che ci sia sempre scelta. Veniamo a parlare di un tema che in Italia, probabilmente al contrario di quello che è successo nel Regno Unito, è non solo cruciale, ma devo dire è stato anche doloroso per le modalità con cui sono state, diciamo, portate a termine. Mi riferisco alle liberalizzazioni, al processo delle liberalizzazioni come si è appunto svolto a partire dagli anni 90. Ecco, in particolar modo nel settore delle telecomunicazioni il processo di liberalizzazione è stato decisamente rivoluzionario. Lei non ritiene che oltre a queste liberalizzazioni, diciamo, non ci fosse stata un processo forte di delegificazione e avessimo, diciamo, intensificato o aumentato il numero delle regole? Anche il processo stesso di liberalizzazione avrebbe potuto portare a determinare maggiore libertà e più crescita per tutti, quindi migliore benessere? Non sono sicuro di vedere completamente, diciamo, tutti i lati della questione. In questo senso, da una parte è evidente che le liberalizzazioni hanno portato benessere. Se uno guarda le telecomunicazioni, c'era un operatore che faceva quel che voleva, oggi ce ne sono 5, 6, a seconda di chi si vuole contare, e c'è scelta. E quindi io penso che non c'è dubbio che le liberalizzazioni portano benessere. Io posso scegliere di andare a Roma con due treni diversi, due compagnie diverse, a qualcuno piace una, a qualcuno piace l'altra. Posso volare con infinite compagnie aeree, qualcuna buona, qualcuna meno buona. Quindi io credo che il concetto di liberalizzazione è legato al concetto che dicevo prima della concorrenza. Non ci può essere concorrenza se non c'è liberalizzazione. If anything, come si dice in inglese, siamo stati molto timidi. Cioè qui abbiamo ancora il monopolio dei taxi, qui abbiamo ancora una serie di settori dove in realtà liberalizzazione non c'è. Dobbiamo ancora ricorrere a professionisti più o meno qualificati per fare cose che molto spesso all'estero di cui non c'è più bisogno. Per cui il mio grande incoraggiamento ai giovani, ai ragazzi che guardano questo video è di dire se spingete per liberalizzazione e per concorrenza ci saranno più lavori e ci sarà più scelta come consumatore. Se si va nella direzione opposta no. Dopodiché poi c'è il secondo punto su cui non credo di poter dare una risposta unico perché dipende le regole con cui si liberalizza. Ovviamente dipendono dal settore. Ci sono settori dove una certa gradualità probabilmente è necessaria. Di nuovo mi riferisco al trasporto. È chiaro che noi abbiamo tassisti, guidatori di camion, non è che possiamo domani metterli tutti da parte perché dobbiamo liberalizzare. Bisogna gestire un processo nel tempo. Abbiamo altri settori dove invece si può liberalizzare molto più in fretta e avere molta più concorrenza da subito. Quindi le regole dipendono un po' dal settore e anche da gestire gli impatti sociali perché non è che possiamo liberalizzare dimenticandoci le famiglie, i lavoratori, eccetera. Per cui mentre io sarei ideologico su dire liberalizzazione sì, poi però il come farlo va visto settore per settore non posso dare una risposta generale. Allora abbiamo parlato di liberalizzazioni. Strettamente legato al fenomeno delle liberalizzazioni è evidentemente il tema delle privatizzazioni. Nelle privatizzazioni, che è un fenomeno in Italia che si è sviluppato a partire dagli anni 90, abbiamo avuto alcuni casi virtuosi, sinceramente rari, e abbiamo avuto altri casi meno virtuosi. In seguito appunto a alcuni fallimenti in questo processo molti oggi chiedono più Stato all'interno delle imprese. Ecco, secondo lei qual è la prospettiva futura? Cioè ragionevolmente possiamo pensare a uno Stato che sia ancora più presente nel mercato? Questa storia di avere più Stato nel mercato è una risposta istintiva ma molto superficiale che in Italia purtroppo viene spesso in questi tempi evocata. Allora guardiamo un po' ai fatti. Non è che più Stato voglia dire meglio o peggio. Noi abbiamo un'azienda, Enel, che è stata quasi completamente privatizzata, 23% dello Stato, capitalizzazione di mercato, 55 miliardi, una delle migliori e meglio gestite aziende elettriche al mondo, non in Europa, presente in Africa, presente in Sud America. Abbiamo Leni, che è una delle grandi aziende, lo Stato ha ancora una quota, ma è gestita bene da oilmen che sanno cos'è il loro mestiere. Poi abbiamo avuto l'Italia, che è stato un disastro, ma lì è stato un disastro gestito dallo Stato, dai privati, da chiunque. Abbiamo la RAI, che io vivo in Inghilterra, la BBC è un'icona, è un'istituzione, ha una qualità dell'informazione enorme ed è completamente pubblica. Ecco, non credo che si possa dire lo stesso della RAI, ma la RAI è gestita con altre ottiche, quindi quando lo Stato poi gestisce per interessi che non hanno niente a che vedere, con interessi dei cittadini, ma con interessi partitici o politici, beh, allora io dico, il problema non è pubblico o privato, il problema è come lo gestisci. Quindi uscirei da questo dibattito teorico che dice ci vuole più Stato. Ci vuole semplicemente che le aziende siano gestite meglio, alcune avranno più proprietà statale, altre meno. Io non credo che averne di più sia la soluzione, perché l'unica soluzione è per gestire meglio le grandi aziende, di avere migliore management e di avere indipendenza e di lasciarle gestire sul mercato, nell'interesse dei clienti. Alla fine io penso che io voglio avere il servizio migliore, il prodotto migliore, da un'azienda, poi diciamo che sia privata o pubblica, dipende dal settore, dipende dalla storia. Ma non credo che la risposta per l'Italia oggi sia più Stato. Bene, veniamo a un tema, presumo, molto caro ai nostri giovani. L'Italia è un paese che ha dei seri problemi per i laureati a inserirsi nel mondo del lavoro, soprattutto in rapporto non tanto direttamente, ma in proporzione a livello di preparazione e aspirazioni individuali. Cosa proporrebbe lei di fare per, anche a breve termine, ottenere un certo miglioramento di questa situazione così, insomma, dolorosa? Dobbiamo essere anche un po' onesti con noi stessi. Da una parte, chi forma bene le università, gli istituti di higher education che formano bene i ragazzi, dimostrano che in realtà poi questi il lavoro lo trovano. Quindi la domanda che ci deve fare è che cosa serve veramente al mondo del lavoro, da parte delle università, per avere dei ragazzi migliori e più adatti al mondo del lavoro. Insomma, l'Italia è veramente un po' lenta nel cambiare, le università che sanno adattarsi, che introducono, per esempio, più scienza, più STEM, più vera competenza tecnica, e lo dico non in ingegneria, lo dico in medicina, lo dico in legge, lo dico in economia ovviamente, sono quelle che poi alla fine hanno meno problemi. Quindi la prima cosa da fare sarebbe cominciare a farsi una seria domanda su che cosa serve al mondo del lavoro, ma soprattutto cosa servirà. Cioè, chi inizia a studiare medicina oggi esce fra dieci anni con la specializzazione. Quindi la domanda che io mi farei se fossi un rettore di medicina è ma fra dieci anni un radiologo, che cosa deve sapere di statistica, di tecnologia? Fra dieci anni un chirurgo deve sapere probabilmente più di robotica che non di, non lo so, chimica di base. Cioè, bisogna domandarsi molto di più cosa serve al mondo del lavoro e qui c'è un punto filosofico molto importante. L'università serve per tramandare il sapere e formare professori o serve per formare giovani alla vita? E qui bisogna essere un po' chiari nel fatto che il tramandare il sapere e formare i professori è una missione, sicuramente, dell'università, ma non è la missione maggioritaria, è la missione minoritaria. Anche perché oggi il sapere si tramanda con strumenti tecnologici molto facilmente. Quindi, la prima cosa, le università devono veramente mettere mano ai programmi e veramente cominciare a accettare che devono mettersi più in gioco. I corpi docenti non tutti chiaramente sono felici di questa cosa. La seconda cosa è fare quello che le università private come quella su cui consiglio amministrazione sono io, devono dotarsi di uffici che facciano del placement, la loro missione e, insomma, io dico sempre quando incontro rettori o capi di partimento, dire la prima domanda che faccio è quanti dei vostri laureati hanno lavoro a sei mesi data. Se la persona non sa questa risposta immediatamente vuol dire che non è un obiettivo principale. E quindi bisogna cominciare a dotarsi di questi uffici, bisogna ingaggiare il territorio, bisogna mettere molti più stagisti nelle imprese, perché ovviamente quando uno va in impresa poi l'impresa lo apprezza e poi gli fa l'offerta. Ho parlato recentemente a Bergamo a studenti e veramente mi si è aperto il cuore quando sentivo gente che diceva io ho fatto uno stage, mi pagavano poco, mi facevano fare le fotocopie, poi improvvisamente un giorno mi hanno fatto fare un lavoro bellissimo e mi hanno detto quando finisci tu chiamaci perché ti assumiamo. Cioè è quel tipo di commistione tra il mondo del lavoro, il mondo accademico, che deve essere potenziata moltissimo. Quindi lei non pensa che ci sono diciamo problematiche anche dal lato della domanda, cioè che riguardano l'offerta didattica, i problemi, non tanto... Dalla parte del mondo del lavoro? Nel mondo del lavoro, cioè che... No, sicuramente le imprese italiane assumono pochi laureati. Allora il problema vero è che le imprese italiane hanno una percezione che non tutti i laureati poi in fondo valgono il costo del laureato. Ma è profondamente sbagliato perché è chiaro che ci sono alcuni laureati che sicuramente non... Però penso che i migliori laureati o i laureati bravi dell'Università di Verona sicuramente hanno un valore maggiore che uno che non ha fatto tre o cinque anni di studio da voi. Il problema è farlo capire alle imprese e il problema è farglieli vedere e anche esporre un pochino i ragazzi nel mondo delle imprese. Io dico sempre quando parlo ai ragazzi di università ragazzi mollate il parlare complicato che vi hanno insegnato in università e andate su quello che sapete fare. Quindi più commistione tra l'università e il mondo del lavoro in qualunque settore è assolutamente importante. Poi le imprese impareranno a apprezzare un po' di più i laureati. Però parte molto dall'offerta. Tanto è vero che ci sono università, di nuovo come... adesso devo citarla perché fa parte del mio ruolo di marketing, come la Bocconi che hanno il 90% degli studenti che trovano lavoro. Allora se quelli lo trovano ci sarà un motivo, forse. Secondo il rapporto annuale del 2018 dell'ISTAT le segnalazioni di parenti e amici o la conoscenza diretta del datore di lavoro sono ancora l'opzione preferita dell'87,5% degli applicanti. Perché la meritocrazia resta un problema in Italia a tutti i livelli, non solo nella ricerca del posto di lavoro? Che cosa si può fare per migliorare la situazione? Allora il problema del merito in Italia è un tema molto dibattuto. Io non credo che in Italia non si apprezzi la qualità, non si apprezzi il merito. Siamo nel paese dell'arte, nel paese dei grandi artisti, abbiamo costruito la nostra reputazione di italiani sul merito e sull'eccellenza. Credo però che ci sia un altro sistema di valori, che è il sistema di valori relazionale, che a volte purtroppo, troppo spesso prevale. Quindi io prendo, voglio tenermi la flessibilità di prendere una persona o di non prenderla per fare un piacere a qualcuno che poi me lo rende da un'altra parte, eccetera. E questo è il problema, perché questo naturalmente toglie poi la sicurezza che investendo, studiando, essendo bravo o brava, io poi riuscirò a essere assunta e riuscirò a far carriera. Io penso profondamente che la trasparenza sia la risposta a questo. Io nella mia vita non ho mai rifiutato che qualcuno, per esempio, mi dica guarda, c'è il cugino del figlio del fratello che è bravo o brava, ti posso mandare qualcosa? Ho sempre detto, assolutamente sì, fammi il piacere, mandami il curino. Poi se questa ragazza è brava, la metteremo nel processo normale. Finirà dentro, adesso le tecnologie aiutano col web, con tante altre tecniche, diciamo, che si possono usare, da una parte a schermarsi dal sistema relazionale e dall'altra anche a dare opportunità a tutti. Un pochino parte anche però dai ragazzi, nel senso che è chiaro che se poi c'è qualcuno che continua a usare certi strumenti, ovviamente lo fa a danno e a scapito dell'amico o dell'amica. Quindi, insomma, deve succedere un po' da tutte e due le parti, però trasparenza e utilizzo di tecnologia aperta, secondo me, poi, è quello che rende il sistema relazionale più gestibile. Diciamo, in poche parole, lei potrebbe dare una ricetta alle imprese italiane per essere competitive sul mercato globale, come oggi è indispensabile? Cosa devono fare? Non è che la ricetta sia per le imprese italiane, la ricetta è per le imprese di qualunque paese al mondo, cioè nel senso non è che ci sono ricette speciali per gli italiani rispetto agli altri. Questa è una cosa che ci tengo a dire, grazie per la domanda, perché dobbiamo un po' smetterla di pensare che questa italianità sia una roba speciale, cioè io lo dico con grande semplicità. Cioè, sì, le imprese italiane sono buone, ma ci sono imprese buone ovunque, il mondo si sta globalizzando, i ragazzi ormai vanno a studiare all'estero, fanno l'erasmus, parlano lingue, girano, cioè non è che ci sia poi questa grande differenza tra essere italiani e non essere italiani, c'è una differenza culturale sicuramente, ma va bene, facciamo leva, come dicevo all'inizio, facciamo leva su questa differenza culturale, non rendiamola una specificità particolare. Che cosa devono fare le imprese? Le imprese devono fare due cose, devono aprirsi di più all'innovazione, e per aprirsi all'innovazione bisogna assumere più ragazzi, più giovani, non c'è niente da fare, noi cinquantenni per quanto siamo aperti, non siamo più current su tante tecnologie, su tante cose nuove, quindi bisogna assumere più ragazzi, essere più coraggiosi nel assumere giovani, l'ho detto anche a un convegno del Corriere della Sera, a imprenditori, ho detto assumete laureati, andate all'università, al liceo di fianco a scuola, e portateveli a casa presto, prendeteli sei mesi prima che si laureano, metteteli in azienda ancora prima che si laureano, perché è lì che si dimostra che le grandi idee nascono sempre in gente che ha meno di 32 anni, più o meno, poi c'è sempre il genio che ha l'idea eccezionale, ma è quella fase dell'età lì che è importante, questa è la prima cosa, prendere giovani e prendere giovani che abbiano voglia di cambiare, e poi la seconda cosa ovviamente vedere il mondo come il mercato, perché l'Italia invecchia e invecchierà in ogni caso, non importa che cosa faremo, cosa non faremo, l'Italia invecchierà quantomeno per i prossimi 30-35 anni, e quindi come mercato con l'invecchiamento, i consumi individuali si sa che scendono, quindi come mercato l'Italia come tale, per forza di cose non crescerà, si crescerà un po' di prezzo ma non di volumi, e quindi bisogna andare molto fuori, quindi lingue, quindi apertura, e poi se c'è bisogno capitalizzarsi, accettare di perdere il controllo, ridurre il controllo, esercitare il controllo attraverso la leadership degli imprenditori, ma insomma se ci vuole capitale, ci vuole capitale, non si può continuare a gestire le aziende così, con piccoli capitali per poterne mantenere il controllo, quindi assumere giovani, innovare, e se serve capitalizzare per andare all'estero. Allora, la domanda che spesso gli studenti si fanno, soprattutto quando vengono a conoscenza di certi casi imprenditoriali, diciamo, stranieri, ad esempio, perché Steve Jobs non è nato in Italia? Perché in Italia non abbiamo avuto un Apple? Più, diciamo concretamente, perché in Italia negli ultimi anni non si sono sviluppate, a livello di grandi imprese, queste imprese ad alto tasso di innovazione, e anzi, quelle che purtroppo c'erano, come per esempio nel caso dell'Olivetti, sono naufragate drammaticamente. Io, qui è una domanda molto importante, e qui bisogna essere estremamente chiari, perché, se no, questa storia del perché non avessi Jobs non è nato qua, perché Jeff Bezos non è nato qua, ce la continueremo a ripetere per i prossimi 50 anni. L'Italia è piccola, la Germania è piccola, l'Inghilterra è piccola, sono mercati da 50, non parliamo del Portogallo, sono mercati da 50-60 milioni di persone. Con la tecnologia attuale, la scala che si può raggiungere è quasi infinita, in quasi tutti i settori, e quindi i mercati grandi, profondi, con tanta opportunità e anche opportunità di innovare, diventano più attraenti. Il rischio che abbiamo è che il mondo venga bipolarizzato, Cina e Stati Uniti. Stati Uniti perché sono 320 milioni di persone, un singolo mercato molto ricco, e Cina perché saranno un miliardo e due, un miliardo e tre, un miliardo e quattro, e quello che è, meno ricco ma con volumi molto grossi. E noi in mezzo abbiamo questa cosa che abbiamo creato, che si chiama Europa, che è stata una grande opportunità, ed è ancora una grande opportunità, di creare un terzo polo. Ma per farlo bisogna creare un vero singolo mercato. L'Europa deve essere vista come il nostro singolo mercato. Io, se mio figlio domani ha un'idea imprenditoriale geniale, e mi chiede il consiglio dove devo andare a partire, papà, io gli dico vai in America. Perché se vai lì puoi raggiungere 320 milioni di persone, le raggiungi subito, c'è un solo sistema legislativo, c'è un solo sistema giuridico, se ti va bene fai un successone. Poi gli potrei anche dire vai in Cina, ma è un po' più difficile. In Europa, tu dici vai in Italia, ci sono le regole italiane, cioè sì, abbiamo l'Europa, ma non l'abbiamo spinta al massimo. Il massimo è avere un singolo mercato grande, dove chiunque vuole sperimentare, vuole lanciare, può avere la cosa. Poi in Italia abbiamo un problema in più, che è siamo un paese estremamente regolato, non aperto alla concorrenza, di nuovo Uber, Lyft, Airbnb, qui non potevano nascere. E quindi anche Steve Jobs o Jeff Bezos qui non poteva nascere, perché il mercato è troppo ingessato, ci sono troppe regole, troppe cose che rendono difficile partire. In generale, in tutta Europa è più o meno così, però sicuramente se creassimo uno spazio unico, improvvisamente avremmo qualcosa che è attraente come l'America, più diversa, perché abbiamo più diversità in Europa, e francamente anche un po' più bello, perché l'Europa è molto bella dal punto di vista artistico, ambientale. Quindi la vera causa del perché non abbiamo queste grandi aziende è che non abbiamo saputo creare ancora un singolo mercato e dobbiamo spingere, i ragazzi devono spingere per questo, perché è il loro futuro che dipende da questo. Da soli siamo piccoli. Si dice, soprattutto si diceva, che l'Italia fosse il paese delle piccole e medie imprese e per un certo periodo era abbastanza diffusa in Italia la convinzione che l'economia italiana potesse reggersi quasi solo sulle piccole e medie imprese. Oggi il mondo è cambiato, il ruolo delle piccole e medie imprese è valutato diversamente, tuttavia in Italia esiste la consapevolezza che le piccole e medie imprese, soprattutto nell'alta qualità, possono giocare un ruolo importante. Qual è secondo lei il ruolo e il rapporto che deve esserci tra piccole e medie imprese e grandi imprese in Italia? Allora, in Italia il problema sono le medie imprese, non le piccole. Cioè, in tutti i paesi ci sono piccole, medie e grandi imprese. Il problema d'Italia è che ne abbiamo tantissime piccole, che va benissimo, perché, voglio dire, è quello che dicevo all'inizio, è la cultura italiana, è l'imprenditorialità, è la creatività. Il problema è che se c'è solo la piccola e poi c'è la grande, la grandissima, e non c'è quella in mezzo, quella piccola va avanti per un po'. Poi quando gli arriva la prima crisi, quando un concorrente inventa qualcosa, quando arriva la multinazionale che spacca il mercato, l'imprenditore guarda la famiglia e dice ragazzi, vendiamo. Poi loro poi sui giornali scriviamo ah, i nostri gioielli vanno all'estero, eccetera, eccetera. Quindi il problema è la crescita da piccola a media. La grande impresa può ovviamente aiutare le piccole, però alla fine ne aiuti un certo numero. La grande impresa poi si tecnologizza. Noi a un certo punto nel mio precedente lavoro abbiamo cominciato a dire se tu sei in grado di gestire AstonLine bene se no fuori, poi devi collegarti dal punto di vista informatico con noi. Poi ti mettiamo gli standard sulla qualità, poi ti comiamo e veniamo a vedere come gestisci, se tratti bene le persone se non le tratti bene se no non ti vogliamo. Poi abbiamo l'ethical purchasing, quindi vogliamo vedere da chi compra. La piccola impresa muore se gli vai a fare questo. Allora, la media invece che è in crescita, se guardiamo la Germania, la Germania ha questo livello di imprese di media dimensione ma medie parliamo di imprese da un miliardo, due miliardi, tre miliardi quindi medie grosse non medie medie. Questo è quello che porta poi il sistema a diciamo a aiutare, ogni livello aiuta il precedente e tutti possono crescere. Ma di nuovo si torna al tema come fa una piccola impresa a diventare media deve avere delle persone brave quindi deve assumere laureati, deve assumere gente a cui dare una prospettiva di carriera e ripeto a un certo punto deve capitalizzarsi perché se devi andare a Singapore in Sud America e in Alaska ovviamente hai bisogno di avere un'infrastruttura più seria che non se vendi diciamo in Basilicata e in Val d'Aosta. Ultimamente diciamo l'etica è stata abbastanza è una parola che viene utilizzata maggiormente. In un recente passato le università avevano un po' trascurato ovviamente soprattutto quelle che impartiscono discipline scientifiche e l'etica e si erano concentrate diciamo sulla scienza fine a se stessa. Oggi questo è un meccanismo che sta avendo un'inversione di marcia. Per le imprese anche le imprese hanno incominciato a parlare poco alla volta di etica e diciamo anche la diffusione evidentemente dei social ha contribuito a questo. Ecco in che senso le imprese possono essere portatrici di valori etici valori etici sostanziali legati all'impresa e che non siano semplicemente diciamo un belletto per all'interno di operazioni di marketing. Dunque è una domanda molto molto importante e do una risposta un po' più articolata perché è importante questo. Allora il primo punto è perché l'impresa deve rimettere l'etica al centro i principi e i valori al centro di quello che fa di più oggi che non 15 o 20 anni fa e la risposta è molto semplice il progresso della tecnologia la capacità di arrivare direttamente al consumatore la capacità di comunicare istantaneamente inevitabilmente richiede che nelle imprese si deleghi più responsabilità alle nostre persone il vecchio sistema di controllo il prezzo la pubblicità il canale che usi il manufacturing e il sourcing è finita cioè il mondo cambia talmente in fretta che le imprese devono delegare se deleghi e io sono un grande sostenitore della delega c'è anche un caso di Harvard Business School fatto proprio su questo principio su di noi e su questo principio però devo essere sicuro che le persone non mi fanno cose sbagliate e l'unica maniera per esserlo è che ci deve essere fiducia io ho usato molto nella mia carriera la parola trust fiducia tra colleghi la fiducia può essere solo basata su valori io mi fido di dare a lei autonomia nelle sue decisioni manageriali se so che condividiamo i valori e lo devo fare anche per essere sicuro di non finire in galera un giorno io quindi è molto importante specie quando si gestisce una multinazionale ma anche in una piccola impresa essere sicuri che il tuo venditore non imbroglia il cliente che il tuo compratore non compra una roba di cattiva qualità solo per risparmiare un po' quindi l'etica diventa e la fiducia diventano essenziali nelle organizzazioni delle imprese moderne poi c'è il secondo passo che è come si fa a essere sicuri che non sia solo un esercizio cioè che non siano quelle belle robe che si mettono sui muri noi amiamo i nostri clienti amiamo i fornitori l'ambiente e abbracciamo gli alberi cioè come si fa a farla diventare una cosa vera allora qui è molto importante il ruolo della leadership il ruolo dei capi il ruolo di chi è visibile perché lì devi dare l'esempio e devi anche intervenire e punire chi rompe i principi di nuovo nella mia esperienza io sono sempre stato rigidissimo nel dire ci sono alcuni principi che chiamavo non negotiable non negoziabili chi viola i principi non negoziabili non appartiene più a questa azienda e non importa se fa bene se fa male se è bella se è intelligente se ha fatto i risultati migliori del mondo se chiunque rompe i principi non negotiable esce dall'azienda per contro chi invece è coerente con i principi non negotiable e ne fa un punto di forza dell'offerta di business io sono sul consiglio di amministrazione di Unilever Unilever è un'azienda che mondialmente è riconosciuta per aver fatto di queste cose il suo cardine strategico chi incarna questi valori viene premiato quindi uno è importante due bisogna premiare e punire chi non sta allineato ai valori ma tre soprattutto bisogna dare l'esempio l'Italia è appunto anche dove siamo in questo momento ma in qualsiasi posto dove ci si giri è un paese pieno di cultura e anche di risultati della cultura ovviamente non solo di cultura stratta questo immenso patrimonio questo grandissimo patrimonio ha evidenti necessità di essere mantenuto e ancora meglio di essere valorizzato che cosa possono fare le aziende le imprese private per contribuire alla valorizzazione del patrimonio artistico e in un certo senso quindi per restituire una parte del vantaggio che se stesse hanno a poter vivere in un ambiente così irrorato di cultura come è l'Italia ma innanzitutto respingo un po' la struttura della domanda le imprese non devono restituire niente le imprese pagano le tasse come gli individui e questo è quello che deve è quello che deve restituire alla comunità poi se non le pagano andiamo a vedere perché non le pagano per cui non è non è non è quello il punto io penso che il patrimonio artistico italiano debba essere completamente approcciato in un modo diverso da un lato ci sono le grandi realtà e devo dire che alcuni passi buoni sono stati fatti in quella direzione dobbiamo dare a questi eccellenti direttori di museo che abbiamo a questi eccellenti curatori che poi siano italiani o stranieri anche questa è una polemica provinciale a me non interessa è stato a Torino recentemente c'era una direttrice fantastica italiana ma se fosse stata tedesca per me era uguale che veramente hanno passione ma non hanno gli strumenti per gestire il patrimonio piccolo grande che hanno in una maniera logica dal punto di vista commerciale dal punto di vista dell'esposizione turistica dal punto di vista anche dell'immagine quindi dobbiamo e credo Franceschini abbia fatto qualche passo in quella direzione il ministro Franceschini ma poco rispetto a quello che si dovrebbe fare abbiamo le persone eccezionali abbiamo persone con competenze eccezionali che possono diventare più manager della cultura e non solo dei curatori dobbiamo dargli però il potere di farlo e incoraggiare chi ha il coraggio di darglielo quando questi poi ce l'hanno non si preoccupi vengono loro a cercare le aziende vengono loro a dirci perché non facciamo questa cosa assieme perché non usate il mio posto bellissimo la sera per le vostre riunioni perché non mandate i vostri giovani tre ore alla settimana aiutarci o qualcosa però tutto sta a ricreare orgoglio e imprenditorialità in chi gestisce queste cose e rispettarli e non interferire politicamente e non usare questi come beni dello Stato questi sono beni dei cittadini questo è il patrimonio dell'Italia poi c'è la grande massa di cose che è francamente difficile utilizzare e lì bisognerebbe studiare veramente dei meccanismi chiamiamoli un po' quasi di franchising pubblico privato in cui con dei sistemi chiaramente di vigilanza di ispezione eccetera le piccole cose e ne abbiamo migliaia nel paese vengano affidate a chi le può gestire con un'ottica di nuovo un po' più imprenditoriale valorizzare farle vedere tra l'altro ironicamente questo succede più facilmente nei piccoli comuni dove più tipicamente si riesce a trovare una persona che c'è lo scavo la piccola cosa e riesce a tirare fuori un gioiellino che magari all'estero sarebbe una cosa enorme da noi lo consideriamo una cosa molto piccola e con un po' di visite un po' di immagine un po' di comunicazione rende magari il posto più attraente ci vorrebbe un approccio molto più responsabilizzante dei gestori del nostro patrimonio artistico siamo ancora molto burocratici nel tenerli un pochino con le mani legate il settore delle telecomunicazioni è probabilmente uno dei settori a maggior tasso di innovazione e appunto recentemente diciamo una tematica legata all'innovazione è stata e è comparsa sui giornali di tutto il mondo riguarda la nuova tecnologia 5G ecco ci sono due aspetti che magari possono interessare cioè il fatto effettivamente quali saranno le conseguenze di questa nuova sulla vita pratica di questa nuova tecnologia 5G e poi una sua parere sul fatto che diciamo il gestore di questa tecnologia possa anche in qualche misura impossessarsi di dati sensibili e quindi ci debba essere una forte cautela nella assegnazione nella scelta di chi potrà essere il gestore di questa tecnologia allora sul tema del 5G prima bisogna fare chiarezza nel dire che cosa permetterà di fare il 5G rispetto a oggi allora quello che il 5G permetterà di fare rispetto a oggi è sostanzialmente avere molta più velocità molta più banda quindi poter trasmettere più dati più rapidamente ma soprattutto permetterà che l'effetto latenza quindi il tempo in cui un segnale torna indietro il tempo in cui il mio dito tocca il tavolo il mio cervello si accorge che c'è stata c'è stata questo contatto permetterà di portarlo sotto i 8-9 millisecondi che è appunto una reazione quasi di sensibilità fisica questo nei fatti vuol dire che si potrà collegare oggetti si potrà collegare robot si potrà collegare tutto e avere una remotizzazione di tutti i controlli dalle serrature delle porte che diventeranno elettriche alle macchine che leggeranno ovviamente chi attraversa la strada se posso girare o no ai sistemi medici quindi avere in tempo reale le condizioni di una persona e iniettare magari o rilasciare una sostanza medica che è necessaria per le condizioni della salute cioè si potrà fare tutto in remoto quasi istantaneamente questo non arriva il primo giorno questo arriva nel tempo ovviamente saranno delle trasformazioni profonde le fabbriche cambieranno completamente il sistema di trasporti cambierà completamente il sistema di gestione degli edifici cambia completamente non avremo più un riscaldamento che dice devo portare la temperatura a X la devi portare a quello che servirà al numero di persone presenti a stare bene e magari aprendo delle finestre chiudendo le finestre se si fa caldo se si fa freddo quindi la caldaia sostanzialmente ragionerà con mille input che le arriveranno da tante cose e tutti noi abbiamo sperimentato il posto che è troppo caldo che è troppo freddo ma lo stesso si applicherà alla sicurezza lo stesso si applicherà alle entrate non ci sarà più bisogno di passare un badge ci sarà il riconoscimento facciale e chi deve entrare entra chi non deve entrare non entra quindi tutto un po' potrà cambiare e questo è un grande cambiamento il problema della sicurezza del controllo della tecnologia è un problema che è male interpretato la tecnologia di base è comunque controllata dagli operatori cioè gli operatori installano una tecnologia che sia prodotta dai cinesi dagli svedesi dai finlandesi o dai coreani viene controllata dagli operatori quello di cui ci dovremo assicurare è che ci sia un livello di sicurezza nella tecnologia che permetta ma non ai cinesi agli svedesi ai finlandesi o a chiunque di interferire a nessuno di entrare ed è molto semplicistico pensare solo a un singolo paese perché la verità è che appunto quando la serratura sarà una serratura elettronica beh dove è stato scritto il software di quella serratura io credo che pochi lo sapranno perché uno il software lo può scrivere in Kenya farlo scrivere in Kenya da uno che è un immigrato indiano e se quello è o non è bravo non lo sapremo mai non si potrà mai saperlo bisogna quindi essere in grado di spezionare il software e di essere sicuri che tutto quello che metteremo ma che non è quindi la tecnologia 5G è anche la tecnologia distribuita il termostato di casa la serratura la macchina sia sicura e per fare questo io sono un grande avvocato da tanti anni l'Europa deve potenziare le proprie capacità di cyber defense l'Inghilterra è molto forte l'America ovviamente è fortissima l'Europa deve investire tutti i paesi devono assumere persone e creare delle unità che ci difendano in questo mondo futuro poi ci sono le leggi GDPR l'Europa è molto avanti in questo quindi dal punto di vista legale siamo avanti ma dal punto di vista tecnico e tecnologico no l'Europa è molto avanti l'Europa è molto avanti l'Europa è molto avanti grazie a tutti grazie a tutti